Teatro, yoga e pittura al via ad ottobre la sesta edizione dei laboratori annuali della Compagnia dei Merli Bianchi che a partire da quest'anno si svolgeranno anche a Bellante e Teramo, oltre che a Giulianova, in collaborazione con gli istituti riuniti Castorani di Amicis. Noi finora in questi sei anni abbiamo lavorato soprattutto sul territorio giuliese in collaborazione con gli istituti Castorani di Amicis, che è una struttura che ospita bambini e famiglie in difficoltà. Quest'anno ci hanno fatto una proposta molto interessante che è quella di ampliare le nostre attività anche a Bellante e a Teramo con vari laboratori, a Teramo di teatro e a Bellante teatro, yoga e pittura. Un rapporto di collaborazione che è nato insieme al mobilificio Cerconi che ci ha messo a disposizione uno spazio e stiamo iniziando una collaborazione anche con gli enti comunali. Le attività laboratoriali che, dicevo, partiranno ad ottobre saranno rivolti sia ai bambini dai 6 ai 13 anni che agli adulti, i laboratori di yoga e pittura soprattutto per adulti. Quando saranno presentati i laboratori? Allora, i laboratori li presenteremo in due appuntamenti diversi. A Bellante avremo un open day il 21 di settembre dove saranno open day per presentare i laboratori ma anche il nostro nuovo spazio. Saremo appunto aperti tutto il giorno dalla mattina con le attività di yoga. Il pomeriggio alle 16 ci sarà uno spettacolo teatrale per ragazzi, quindi tutti i bambini della zona sono invitati e la sera con il laboratorio di teatro adulti. A Giulianova invece faremo il settimo open day perché sono 7 anni che collaboriamo con gli istituti Castorani Riuniti e lo faremo il 28 di settembre, domenica 28. Anche lì tutta la giornata aperta e quindi tutte le persone che hanno voglia di avere informazioni e provare una lezione di prova lo possono fare in quelle due giornate.